signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale negli ultimi mesi anche qualcosa di più si è molto parlato delle intelligenze artificiali e di che impatto potrebbero avere nei campi più disparati sia in ambito professionale che anche in quel lobbistico e quando abbiamo fatto il raduno a legnano mi è capitato di parlare proprio di questo con manuel colleoni e di discutere su quale effettivamente sarebbe stato l'impatto e le intelligenze artificiali sul gioco di ruolo quindi questa settimana andremo a parlare proprio di questo ma prima un'informazione di servizio finalmente dopo praticamente tre anni di stop per via della quarantena posso ritornare ad andare alle fiere e quest'anno sarò al modena play la settimana prossima nello specifico sarò lì il pomeriggio del 19 tutto il 20 e la mattina del 21 e non contento di annoiarvi settimanalmente con questi video mi sono organizzato con mauro longo e intorno a mezzogiorno del 20 terremo un panel in cui discuteremo dell'approccio al gioco di ruolo sia dal punto di vista del master che dal punto di vista del designer dei giochi e posso anticiparvi ci saranno delle sorprese mettiamola così ma ne parleremo dopo il raduno vi lascio ovviamente il link all'evento qui sotto in descrizione insieme a quello dei miei canali social per organizzarci per trovarci lì per chi non potrà venire alla conferenza e quant'altro tra l'altro sarà anche la prima volta che il master kai parla di gioco di ruolo dal vivo davanti a un pubblico detto questo torniamo a noi e andiamo a vedere un esperimento che ho fatto di un possibile uso dell'intelligenza artificiale all'interno del gioco di ruolo con le luci accese la maglia un po troppo bene cominciamo il nostro esperimento e cominciamo a vedere come utilizzare nella pratica lei ha per facilitare il lavoro e il master e vediamo che cosa sono e che cosa non sono in grado di fare poi ovviamente la prima cosa da fare almeno per cortesia e chiedere buongiorno ciao gpt sono un master di un gruppo di gioco di ruolo e devo preparare una campagna per i miei giocatori potresti darmi una mano certo posso aiutarti a preparare la tua scusate certo posso aiutarti a preparare la tua campagna di giochi di ruolo di che tipo di gioco si tratta quali sono le ambientazioni e le regole che utilizzi come inizio sembra promettente quindi vediamo di dargli una situazione reale in cui effettivamente potrei capitare di aver bisogno di un aiuto giochiamo la terza edizione di dungeons and dragon in un'ambientazione fantasy generica ho bisogno di una storia su cui basare la campagna potresti suggerirmene una certo ecco una possibile trama per la tua campagna di giochi di ruolo in un regno lontano governato da un re giusto e saggio si sta diffondendo una strana malattia questa malattia è in grado di trasformare i malati in creature oscure e malvagie che attaccano le persone sane e le trasformano a loro volta in breve tempo gran parte della popolazione è stata infettata e il regno è sull'orlo della distruzione il re disperato ha deciso di inviare un gruppo di avventure nella terra oscura un luogo leggendario e pericoloso in cui si dice si possa trovare un antidoto alla malattia i personaggi del tuo gioco di ruolo sono tra questi avventurieri e dovranno attraversare terre selvagge e pericolose affrontare creature feroci e nemici potenti per raggiungere il luogo in cui si trova l'antidoto una volta giunti nella terra oscura i personaggi scopriranno che l'antidoto si trova nella fortezza custodita da un antico drago rosso che ha il potere di curare la malattia ma vuole qualcosa in cambio il drago chiederà ai personaggi di recuperare un antico artefatto custodito da una setta segreta di cultisti che desiderano usare il potere dell'artefatto per i loro scopi malvagi i personaggi dovranno infiltrarsi nella setta scoprire i loro piani e recuperare l'artefatto una volta tornati dal drago con l'oggetto richiesto dovranno fare i conti con una scelta difficile dare l'artefatto al drago e permettere a lui di curare la malattia usare l'oggetto per sconfiggere i cultisti e fermare definitivamente la diffusione della malattia questa è solo una possibile trama naturalmente puoi modificarla e personalizzarla come vuoi in base alle preferenze dei tuoi giocatori e alle ambientazioni che preferite sì anche perché quello che ha suggerito è decisamente banalotto diciamo che effettivamente una trama l'ha suggerita non saprei dirvi quanto è immediatamente utilizzabile sicuramente qualcosa di un po gonzo abbiamo parlato come il video qualche settimana fa non so dirvi quanto questa trama possa essere valida diciamo che sicuramente funzionale e per la regola del banale e bello non necessariamente l'aspetto più interessante del gioco deve essere la storyline principale fornita al master con un gruppo di giocatori bravi a caratterizzare i personaggi che portino avanti scene interessanti anche con una trama del genere probabilmente la campagna potrebbe avere successo diciamo però che per una storia del genere un essere umano avrebbe potuto suggerire qualcosa di perlomeno analogo se non migliore se volete vederlo come trivia del video in uno dei primi esperimenti che ho fatto la trama che aveva proposta era letteralmente l'esempio che faccio spesso del malvagio barone vuole attaccare il regno del re buono poi credo che rendendosi conto e l'assoluta banalità di quello che ha fatto si è letteralmente suicidato comunque una trama ce l'ha fornita quindi il passo successivo da fare è cominciare a darle una struttura per poter cominciare a impostare la linea narrativa le varie suddivisioni e farci almeno uno schema iniziale di quelle che saranno le sessioni quindi potresti dirmi qual è la suddivisione in atti della trama che mi hai suggerito certamente ecco una suddivisione in atti della trama che ti ho suggerito atto 1 introduzione il regno sta affrontando una terribile epidemia e il re invia un gruppo di avventurieri nella terra oscura per trovare un antidoto atto 2 conflitto i personaggi attraversano la terra oscura affrontando numerosi ostacoli e nemici e raggiungono la fortezza del drago atto 3 svolta il drago chiede ai personaggi di recuperare un antico artefatto custodito da una setta segreta di coltisti che desiderano usarlo per i loro scopi malvagi atto 4 climax i personaggi si infiltrano nella setta scoprono i loro piani e recuperano l'artefatto quindi dovranno scegliere se dare l'artefatto al drago o usarlo per fermare definitivamente la diffusione della malattia atto 5 risoluzione in base alla scelta fatta dai personaggi la malattia viene curata o fermata definitivamente e il regno può tornare alla normalità i personaggi ricevono la gratitudine del re e il rispetto della popolazione qui lui ha utilizzato una divisione in cinque atti non ne abbiamo ancora parlato sul canale io personalmente preferisco quella in tre atti non è qualcosa di tecnicamente scorretto magari per una campagna particolarmente lunga potrebbe anche risultare migliore comunque per quanto riguarda noi funzionalmente una divisione in atti per lavorare ce l'abbiamo quindi la risposta alla data quindi adesso abbiamo la trama e abbiamo un metodo per suddividerla per quanto sia qualcosa di estremamente banale qualcosa su cui lavorare perlomeno lo abbiamo passo logico successivo è ok a questo punto ci servirà un'ambientazione all'interno di cui far agire i personaggi se no la trama non serve a niente quindi vediamo se ci può aiutare per giocare questa quest mi servirà un'ambientazione geografica potresti descrivermi il territorio in cui ogni atto avrà luogo certamente ecco una possibile descrizione del territorio in cui si svolge la tua campagna di giochi di ruolo atto 1 introduzione il regno è situato in una vasta regione montuosa che si estende dalle alture brumose al confine con l'oceano la capitale del regno è una grande città fortificata situata in una valle protetta dalle montagne circostanti atto 2 conflitto la terra oscura si trova ad est del regno oltre le montagne si tratta di un territorio selvaggio e pericoloso caratterizzato da foreste oscure paludi infette e montagne imperbie qui i personaggi dovranno affrontare numerosi nemici tra cui goblin orchi licantropi e creature oscure che vagano tra le ombre atto 3 svolta la fortezza del drago si trova su una montagna imponente circondata da una vasta distesa di neve e ghiaccio la fortezza stessa è costruita in pietra nera e si erge alta e minacciosa sulle valli circostanti atto 4 climax la setta dei cultisti si trova in una foresta pluviale densa e umida che si estende ai piedi delle montagne i cultisti hanno costruito il loro rifugio all'interno di un antico tempio che risale a un'epoca remota e che si erge tra le fronde degli alberi atto 5 risoluzione dopo aver risolto il conflitto principale i personaggi potrebbero tornare nella capitale del regno per ricevere la gratitudine del re e della popolazione oppure potrebbero decidere di stabilirsi in una nuova area guadagnandosi un posto nel regno come eroi leggendari ecco qui già le cose cominciano a migliorare sicuramente se volete creare effettivamente una mappa del regno basata esclusivamente su queste istruzioni dovrete lavorare un po per giustificare perché biomi così diversi si trovino così uno vicino all'altro a meno che questa zona non sia veramente molto larga un intero continente però a livello proprio pratico tecnico la cosa ha senso diciamo che probabilmente questo risultato dipende al vostro gusto personale io personalmente non utilizzerei una divisione così netta tra le regioni però magari per voi è qualcosa che non vi tange o comunque che potete giustificare in altro modo dopo tutto un mondo fantastico diciamo comunque però che creare quattro regioni e dire che in una di esse c'è un bioma diverso non è qualcosa che non avreste potuto fare da solo o elencando i primi cinque biomi che vi vengono in mente ma anche semplicemente tirando un dado su una tabella da qualche parte avete sicuramente un manuale che ha una tabella per generare spontaneamente zone geografiche quindi ha risposto alla domanda ma non è che sia stato un aiuto così fondamentale proviamo a pestare un po di più sul pedale vedere se è in grado di fare anche quelle cose che effettivamente sono rognose lunghe da fare durante la preparazione di un'ambientazione potresti dirmi qual è la città principale di ogni regione dei primi quattro atti e darmene una breve descrizione certo ecco le città principali di ogni regione dei primi quattro atti insieme ad una breve descrizione atto 1 introduzione la città principale del regno si chiama valle cupo ed è una grande città fortificata situata in una valle protetta dalle montagne circostanti è il centro politico e culturale del regno e ospita il castello del re numerosi negozi mercati locande e la sede della gilda degli avventurieri atto 2 conflitto la terra oscura è una vasta regione selvaggia e pericolosa quindi non ci sono città propriamente dette tuttavia ci sono alcune roccaforti e avamposti sparsi per il territorio che servono come rifugi per i viaggiatori e le carovane che attraversano la zona uno di questi avamposti è l'osteria del drago un piccolo rifugio gestito da un vecchio cacciatore di mostri atto 3 svolta la fortezza del drago si chiama draconia ed è una grande roccaforte costruita su una montagna imponente è la dimora del drago e dei suoi servitori ed è temuta in tutto il regno per la sua imponenza e per la sua fama di essere inespugnabile atto 4 climax la città principale in cui si trova il tempio dei cultisti si chiama fiume torto ed è una città portuale situata sulla costa dell'oceano è una città molto popolata e ricca con numerosi mercati porti e magazzini tuttavia la città ha anche una reputazione pericolosa poche è nota per essere un luogo di contrabbando criminalità e attività malvagie e qui devo ammettere che il lavoro che ha fatto è abbastanza buono non solo ha descritto le città ma anche cominciato a inserire un minimo di elementi di world building per caratterizzarle per distinguere una città dall'altra in base alle regioni alcune cose potrebbero fa storcere il naso ma non è qualcosa che voi come master non potete correggere immediatamente la grande città o sull'oceano che sta in una regione che in realtà precedentemente era stata descritta come una grande foresta pluviale non è che sia impossibile potrebbe essere una grossa città portuale costruita sulla foce di un fiume che scorre attraverso la foresta è qualcosa che a correggerlo ci vuole un secondo neanche niente di così inaudito molte grosse città del sud sud america sono esattamente questo tipo di città diciamo però che in questo caso è stata effettivamente utile a mettervi a ragionare su come caratterizzare le città dagli nomi aggiungere qualche elemento di contorno probabilmente se l'aveste fatto da soli magari avreste fatto anche qualcosa di abbastanza migliore perché poi non è che ha avuto chissà quali idee però sarebbe qualcosa e vi faceva partire la mezza giornata un'intera serata tendo che lui l'ha fatto letteralmente in qualche secondo sicuramente vi ha fatto perlomeno risparmiare un sacco di tempo e vista la velocità a cui va anche se quello che ha scritto non vi foste piaciuto avreste potuto semplicemente chiedergli di rigenerarlo da capo e poi usare la combinazione di città che vi piaceva di più come ulteriore trivia per il video è una pura coincidenza ma nell'ambientazione per la terza edizione che io usavo quando era un ragazzo avevo fatto insieme a un mio amico inizialmente per un play by forum c'era effettivamente una grande città chiamata draconia che stava in cima a una montagna a questo punto però vediamo di metterlo alla prova su qualcosa di un attimo più difficile magari qualcosa di effettivamente rognoso ma non per la fase preparatoria qualcosa che potrebbe capitare durante la quest quando i giocatori fanno qualcosa di inaspettato e voi dovete tirare fuori delle idee istantaneamente per proporgli qualcosa senza interrompere la sessione manteniamoci sempre sul geografico oramai che siamo in argomento diciamo che una una delle cose che capita relativamente spesso è che i giocatori nonostante abbiano le risorse per andare avanti con la quest decidono che preferiscono fermarsi a riposare procedere il giorno dopo e quindi voi non vi aspettavate che si fermassero dovete sul momento inventarvi un posto dove farli anche semplicemente andare a dormire quindi dovete proprio improvvisare la locanda vediamo se può farlo anzi facciamogliela più difficile i personaggi avranno bisogno di un posto dove dormire e curarsi per ogni atto potresti dirmi quali sono le due locande migliori per ognuna delle città e darmene una descrizione certamente ecco le due locande migliori per ogni città della tua campagna di gioco di ruolo insieme ad una breve descrizione atto 1 introduzione balle cupo la locanda dell'orso dormiente è una locanda accogliente e rustica situata ai piedi delle montagne a camere confortevoli una grande taverna e un giardino fiorito il proprietario un anziano orso mezzorco di nome graal è famoso per le sue storie sulla storia del regno la locanda del drago dorato è una locanda più elegante situata nel cuore della città a camere lussuose una grande sala da pranzo e una cantina ben fornita il proprietario un umano di nome tiberio è noto per la sua amicizia con il re e per i suoi modi raffinati atto 2 conflitto terra oscura l'osteria del drago è un piccolo rifugio gestito da un vecchio cacciatore di mostri situata ai margini della terra oscura non ha camere vere e proprie ma offre riparo ai viaggiatori che hanno bisogno di un posto dove dormire l'oste un anziano umano di nome raimondo è noto per i suoi consigli sulle tecniche di caccia ai mostri la locanda della luna nera è una locanda molto modesta situata in una delle poche zone stabili della terra oscura a camere semplici e un'atmosfera tranquilla il proprietario una giovane elfa di nome lirien è noto per la sua ospitalità e la sua conoscenza della flora e della fauna locali atto 3 svolta draconia la locanda del drago rosso è la principale locanda di draconia situata ai piedi della montagna a camere confortevoli e una grande taverna che offre cibo e bevande per i visitatori il proprietario un umano di nome gundar è noto per la sua amicizia con i nani delle montagne vicine la locanda del cavaliere nero è una locanda più elegante situata all'interno della fortezza del drago a camere lussuose una grande sala da pranzo e una cantina ben fornita il proprietario un umano di nome arturo è noto per la sua abilità nel servire ai clienti più esigenti atto 4 climax fiume torto la locanda della vela d'argento è la principale locanda di fiume torto situata nel lungomare a camere confortevoli e una grande taverna che offre cibo e bevande per i visitatori il proprietario un elfo di nome elrond è noto per la sua abilità nella navigazione e nella raccolta di informazioni la locanda del teschio fiammeggiante è una locanda più modesta situata nella parte vecchia della città a camere semplici e un'atmosfera rustica il proprietario il proprietario ok non so se qua ha finito il carattere o semplicemente ha avuto un embolo informatico ma il lavoro che avrebbe richiesto in questo caso diciamo anche una buona giornata di lavoro sono comunque otto locande ognuna caratterizzata diversamente anche qui caratterizzazioni estremamente banali nessuna di queste è un'idea rivoluzionaria ma considerando che è riuscito a fare tutto in pochi secondi e voi a fare la stessa cosa ci avreste messo mezza giornata sicuramente è un grande vantaggio un grande aiuto diciamo anche che comunque inventarsi otto locande diverse una dietro all'altra sul momento non è qualcosa di così facile senza cadere sul banale anche per un master vero quindi non possiamo criticarlo troppo considerate anche che potenzialmente questo potrebbe essere fatto nella fase di world building per ogni singolo elemento del regno quindi mettendovi a lavorare secchi per una giornata chiedendogli di generare ogni tipo di elemento in continuazione potreste creare un'intera ambientazione così e anche nel caso i risultati non vi piacciono si interrompa a caso come è successo a noi potreste semplicemente chiedergli di generare più cose io qua gli ho chiesto due locande per regione e prima gli ho chiesto una città per regione nulla mi avrebbe vietato di chiedergli di generare dieci città per ogni regione e poi di quelle che ha inventato ottenere solo le due o le tre che per qualche motivo mi piacevano di più o prendere elementi di varie città diverse che ha fatto e fonderli insieme per creargli una mia città come piace a me o cambiare degli elementi per venire incontro ai miei gusti o alle mie necessità facciamo però un ultimo esperimento con qualcosa di veramente difficile qualcosa che richiede una veramente raziocinante dietro per essere gestita bene per ora abbiamo la nostra trama banale abbiamo le nostre zone geografiche banali con le loro locande banali però in realtà per poter giocare questa quest ci manca ancora un elemento fondamentale l'antagonista a questo punto in ogni atto i personaggi dovranno affrontare un antagonista principale i suoi tirapiedi potresti dirmi chi saranno questi personaggi e come è organizzato il loro gruppo certamente ecco gli antagonisti principali e i loro tirapiedi per ogni atto atto 1 introduzione balle cupo antagonista principale morgat un mago malvagio che cerca di acquisire il controllo del regno ha la capacità di controllare i morti e di evocare creature mortali tirapiedi un gruppo di morti viventi controllati da morgat tra cui scheletri zombie e spettri atto 2 conflitto terra oscura antagonista principale il signore dei lupi un lupo mannaro che controlla la terra oscura ha la capacità di trasformare altri in lupo mannari e di evocare i lupi giganti tirapiedi un branco di lupi giganti e un gruppo di lupi mannari fedeli al signore dei lupi atto 3 svolta draconia antagonista principale tarax un drago rosso che controlla la fortezza di draconia ha la capacità di evocare creature elementali di fuoco e di scatenare fiamme distruttive tirapiedi un gruppo di guerrieri umani e nani che servono tarax e lo proteggono dai suoi nemici atto 4 climax fiume torto antagonista principale il capitano nero un temibile pirata che controlla le acque d'intorno a fiume torto ha la capacità di comandare le onde del mare e di evocare creature marine mortali tirapiedi un gruppo di marinai e pirati fedeli al capitano nero tra cui combattenti abili con spade balestre e maghi specializzati in magia del mare ok anche in questo caso niente di eccezionale tutte cose estremamente banali ma che con un minimo di lavoro potrebbero comunque diventare perfettamente funzionali per una quest sicuramente non sono i migliori personaggi però in questo caso con l'apporto umano caratterizzandoli a dovere poi una volta che vengono introdotti ai personaggi sia a livello di recitazione del master sia a livello di costruzione le loro statistiche o quello che a seconda del gioco che state usando potrebbero comunque diventare degli avversari memorabili per il party anche se per come sono presentati non sembrano nulla di che e di nuovo ci ha messo pochissimo tempo per farlo quindi diciamo che anche in questo caso avesse potuto chiedergli di generare 100 personaggi e prendere le idee migliori che ha tirato fuori diciamo che di prove oramai ne abbiamo fatte abbastanza quindi è arrivato il momento di tirare un po le somme quello di cui si è tanto discusso è se effettivamente un'IA potrebbe sostituire un master e almeno per quello che ho potuto vedere con queste prove che abbiamo fatto allo stato attuale della situazione ovviamente la risposta è no non era neanche pensabile che ci fosse una risposta diversa mettiamolo il master non è semplicemente un jukebox con un manuale aperto davanti deve avere delle capacità oltre a quelle di poter fornire una storia ai giocatori e un'intelligenza artificiale non può leggere un tavolo non può valutare la relazione dei giocatori a determinate situazioni di gioco quindi al di là di mettere assieme delle idee abbastanza banali perché basate sull'analisi di enormi quantità di testo non può fare non può avere trovate geniali non può andare al di là da quello che è il mainstream rispetto a un qualsiasi argomento gioco di ruolo compreso per quello che almeno ho potuto vedere però può essere un valido strumento per aiutare un master vero a accelerare i tempi in quella che è la sua attività di preparazione e potrebbe anche aiutarlo durante la sessione stessa l'ho detto già più volte man mano e commentavo le risposte ma non necessariamente l'ambientazione o la storia devono essere particolarmente geniali e innovative una storia banale un'ambientazione banale potrebbe diventare comunque una serie di sessioni intera campagna memorabile che venga raccontata per anni semplicemente per il modo in cui il master riesce a rielaborare questi concetti o anche solo a presentarli ai giocatori in una maniera particolare e ovviamente grazie a quello che i giocatori ci metteranno del loro neanche i giocatori possono essere sostituiti da un'IA non si limitano a dire la cosa più logica che il personaggio che interpretano farà ci mettono del loro contribuiscono anche loro a quello che è il gioco di ruolo in generale e di conseguenza quando tutti questi elementi sono assieme anche se alcuni di questi sono di per sé banali l'insieme delle parti potrebbe comunque essere molto apprezzabile volendo andare a semplificare brutalmente per quello che abbiamo visto in questo video un master con sufficiente esperienza e abbastanza tempo a disposizione sarebbe sicuramente riuscito a creare qualcosa di notevolmente superiore ma l'esperienza è qualcosa che si guadagna lentamente col passare degli anni e il tempo è un lusso che non tutti hanno a disposizione tutto il materiale che avete visto prodotto da un'IA in questo video invece ha richiesto un totale di 3-4 ore in totale per essere generato e io non mi sono neanche sforzato di andare particolarmente velocemente personalmente io non sarei riuscito a preparare così tanto materiale in così poche ore paradossalmente il tempo che ci metterò poi a editare questo video è molto superiore quindi il video commento sul materiale creato all'IA ha richiesto molte più ore di lavoro del materiale creato all'IA di per sé probabilmente se adesso io avessi deciso di creare una nuova ambientazione per il mio gruppo di gioco ci saremmo messi a discutere tra noi e lavorando qualche sera alla settimana nel giro di qualche mese avremmo sicuramente prodotto del materiale anche molto superiore a quello che abbiamo visto però stiamo parlando di varie le sere alla settimana per mesi questo materiale potenzialmente avrei potuto produrlo da solo in una domenica pomeriggio mentre rispondo ai commenti che arrivano sotto il video appena uscito quello che mi ha soprattutto colpito è la possibilità di generare così tanto materiale in tempi così brevi anche potenzialmente durante una sessione stessa non tanto per il materiale che ha generato ma anche solo per il supporto psicologico che questo potrebbe dare a un master io dopo 20 anni di mastering in realtà non ho problemi di ansia da palcoscenico mettiamola così perché so benissimo che per quanto un gruppo possa sempre e comunque cogliermi in preparato questo è normale e ci sono abituato ho abbastanza esperienza alle spalle che anche se il gruppo dovesse chiedermi qualcosa su cui assolutamente non avevo niente di pronto potrei semplicemente ricordarmi come ho giustito una situazione simile la volta precedente e sicuramente questa situazione l'ho già vissuta e ripetere esattamente quello che ho fatto la volta precedente ma per un master neofita che non ha esperienza e che magari per la prima volta sta giocando la sua prima quest magari anche molto giovane quindi non ha così tanta cultura così tanta esperienza pratica a poterci buttare dentro l'idea che anche nel caso i suoi giocatori gli chiedano qualcosa che assolutamente non ha idea di come gestire lui possa scrivere due frasi e avere a disposizione un generatore casuale di qualunque cosa non è tanto il fatto di avere il generatore ma sapere che il generatore esiste che lui può accederci potrebbe essere un modo per diminuire lo stress l'ansia da prestazione mettiamola così magari a quelli vecchi tra di voi che non si ricordano più come agli inizi può sembrare qualcosa di sciocco ma ho visto molti master molto giovani rimanere effettivamente bloccati dalla paura di non sapere come fare qualcosa e congelarsi di fronte a una situazione che non avevano mai gestito prima perché non sapevano come rispondere alla vicenda e a volte bastava semplicemente dirgli di qualcosa per sbloccarli l'IA potrebbe essere un aiuto da questo punto di vista e non è detto neanche che l'unico modo possibile di utilizzare questo tipo di tecnologia sia quello di generare da soli tantissimo materiale in maniera estremamente veloce anzi io per questo video non sono affatto andato veloce ogni singolo passaggio l'ho fatto insieme a qualche mio amico qualche membro della community appunto perché uno degli aspetti più divertenti è stato quello di generare risultati assieme per poi ridere di quello che effettivamente il computer aveva tirato fuori prima di chiudere infatti voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e anche darvi qualche dato tecnico nel caso vogliate provare a ripetere l'esperimento volutamente io ho usato solamente cose disponibili in rete gratuitamente ci sono probabilmente sistemi migliori che darebbero risultati anche migliori ma sono pensati per l'uso professionale quindi in un modo o nell'altro bisogna pagarli e almeno per quanto riguarda questo video ho voluto mettere le minori barriere d'accesso possibile questa roba che potete farvi a gratis a casa vostra una volta che avete una sera libera come avete potuto vedere il programma che ha generato i testi e chat gpt quella che abbiamo usato è stata la versione 3 il realtà i testi sono stati generati praticamente la settimana prima che uscisse la beta del 4 quindi magari adesso è anche un attimo più efficiente e qua devo ringraziare il dottor torch che è molto più avverso di me a smanettare su questo genere di cose e mi ha aiutato non solo a impostare un po le domande ma anche a commentare vari risultati che sono abbiamo ottenuto prima di quello definitivo che avete visto qua nel video tutte le splendide immagini che avete visto che raffiguravano le creazioni del nostro master digitale sono state generate con night cafe che è un software freemium vi lascio anche quello tra i link in descrizione nel caso vogliate provare a usarlo e in questo caso sono state un contributo di max morandini the dungeon engineer che già è apparso più volte sul canale e l'autore della sigla della serie di fallout no che il ranger nella stessa serie ed è stato lui ad aiutarmi con queste immagini anche in questo caso lui è più esperto di me nel video non mi ci sono soffermato più di tanto ma in questo caso come per i testi il discorso non cambia un artista reale dotato di reali competenze avrebbe sicuramente potuto fare immagini nettamente migliori nel caso in alcuni casi sicuramente nettamente migliori però avrebbe richiesto molto più tempo in questo caso esponenzialmente più tempo ognuna di quelle immagini avrebbero potuto rappresentare diversi giorni di lavoro per una persona noi le abbiamo generate tutte nel giro di 2-3 ore mentre ridevamo e scazzavamo tra di noi questo non solo ha accelerato enormemente i tempi di lavorazione se voi tra un paio di sere dovete introdurre il nuovo cattivo e volete un'immagine da mostrare al party per fargli vedere chi è non potete pretendere che qualcuno ve lo disegni colori inchiostri e tutto nell'arco di un pomeriggio e anche nel caso quel lavoro dovrebbe essere pagato perché stiamo parlando di manodopera estremamente specializzata che richiede anni per sviluppare quelle competenze e molto tempo quindi i disegni quelli veri giustamente costano e costano anche cari se volete avere un'immagine del vostro personaggio da appendervi a una parete potete anche giustificare la spesa di 100 euro per quel ritratto se voi avete bisogno di una dozzina di immagini per ogni sessione per far vedere cosa succede ai giocatori no diventerebbe una spesa enorme e allungherebbe mostruosamente i tempi di lavorazione questo lavoro ovviamente non ha senso se stiamo parlando dell'ambito professionale ovviamente in quel caso l'unica scelta che avete quella di chiamare un artista o perde veramente molto tempo dietro software molto più complessi a pagamento le immagini che avete visto erano praticamente inutilizzabili da quel punto di vista ovviamente gli abbiamo anche chiesto di disegnare una montagna a forma di gianni e questo è stato il risultato lascio a voi giudicare se ne valsa la pena oppure no ho effettivamente anche cercato se era disponibile un sintetizzatore vocale per leggere il testo generato ma no tra la roba gratuita non ho trovato niente che non fosse assolutamente improponibile anche solo per un video di youtube quindi la voce che avete sentito che ha interpretato chat gpt è il buon master etilico che è un membro del core dell'inner circle del canale del master cae e che avete già conosciuto perché quello che ci ha portato l'estate scorsa alle sessioni di microscope senza questi tre eroi questo video non sarebbe stato possibile quindi li ringrazio a nome di tutto il canale e non è detto che non si ripeta l'occasione di creare qualcosa di altrettanto superfluo e stupido in futuro voleva essere una minaccia detto questo possiamo dire che per questo video è tutto adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti cosa voi ne pensate dell'uso delle ia nel gioco di ruolo se le usate se non le usate perché se provate a ripetere l'esperimento e vedere cosa salta fuori nel caso condividetemelo sui social non è detto che salta fuori qualcosa di abbastanza assurdo da fare un seguito a questo video anche questa voleva essere una minaccia per quelli che saranno a modena la settimana prossima ci vedremo direttamente lì di persona per tutti gli altri come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like condividete che utacrescia il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche in descrizione trovate i link al canale di telegram al gruppo discord se volete restare in contatto con la community o se non vi arrivano le notifiche io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video